e adesso doverossamente un articolo su fabio ferrara e ludovica valli che attualmente stiamo vedendo a temptation island insomma la domanda che ci stiamo ponenendo in questi giorni è ma fra fabio e ludovica si insomma fabio e ludovica ce l'hanno fatta o no a superare lo scoglio temptation island che parliamoci chiaro è veramente uno scoglio molto duro io lo dico sempre è l'ultimo posto al mondo dove porterei il mio uomo insomma fabio e ludovica sono due ragazzi bellissimi che si sono appena conosciuti saranno già riusciti a trovare i giusti incastri per superare tutte le difficoltà di questa trasmissione è veramente difficile dare una risposta a questa domanda insomma le bocche sono veramente cucitissime e fabio ferrara e ludovica valli sono veramente in ritracciabili sia a carpi che a casa di fabio ferrara quindi una risposta certa non è facile dare ma adesso abbiamo forse un elemento in più ossia ludovica valli ha rotto la consegna del silenzio imposta dalla trasmissione e ha scritto sulla sua bacheca instagram ludovica valli e fabio ferrara a caserta a casa di lui un per sempre sinceramente che avrà voluto dire